Ciao a tutti, sono Igliana Parisi, faccio la naturopata, mi occupo di vibrazione, faccio trattamenti energetici con il suono, mi occupo di alimentazione naturale e holistica e sono qua per proporvi un seminario che organizzerò insieme al gruppo IERA il 27 di ottobre, dove cercheremo di affrontare insieme il discorso del nutrimento, il tema è il nutrimento che rende libero, quindi quale nutrimento è più consono per ognuno per essere liberi e rendere liberi, quindi prendere consapevolezza di quali sono gli alimenti fisici e energetici e le modalità più consone per la propria costituzione e condizione per raggiungere un proprio livello di libertà, di consapevolezza e di salute. Vi aspettiamo, per informazioni potete visitare il sito oppure telefonare direttamente a me al 347 40 15 08. Vi aspetto e grazie, buona giornata. Grazie.